Siamo sul piazzale di San Maurizio, per me è un luogo bello, nel senso che mi ricordo da ragazzo si veniva qua, si passavano le seratine con la fidanzatina e io mi sedevo qua, io mi sedevo qua e mi sono stato anche qua questa volta. Come vedete noi siamo proprio nel cuore della provincia di Torino, laggiù abbiamo Torino, la collina di Torino, sulla sinistra dove c'è il nostro Monte Oliveto si vede leggermente la collina di Pio Sasco. In questo un anno e 5-6 mesi la Lega è tornata sugli scudi, sul territorio, abbiamo aperto una sezione a Cumiana, abbiamo una presenza sui vari comuni dell'area di nostro interesse, abbiamo dei nostri candidati sindaci che sono Sara Salvi a Perosa, Ettore Aielli a Cumiana, il grande e mitico Carlo Salusso a Piscina. Pertanto la presenza nostra alle regionali nasce dal fatto che si deve dare voce al territorio, ma non solo perché alla fine abbiamo tutta la provincia di Torino, abbiamo amici da tutte le parti e pertanto potremo fare un lavoro importantissimo con tutti gli altri amici che mi sostengono della provincia di Torino per portare avanti un'azione importante, portare avanti il concetto di territorio. Io questa corsa alle regionali non sono da solo, sono con Sara Zambaia. Questo è un facsimile, il facsimile che noi stiamo dando in questi giorni dove si fa vedere come si vota. è molto semplice, si deve scrivere Zambaia Mongello, la scheda è quella verde per la regione Piemonte e per l'Europa Gianna Gancia e Alessandro Panza e poi chi vuole c'è una mia amica Cristina Patelli che è stata parlamentare molto vicina anche a noi sulla questione della cultura quando era in commissione alla Camera dei Deputati.